Gentili telespettatori, buona giornata. Vengono chiesti sei anni a Matteo Salvini per il caso Open Arms. Interviene anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dice è incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi sei anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini. Che aggiunge la Meloni sui social, trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall'immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini. Il governo può intervenire in questo caso? Può Giorgia Meloni o il Ministro degli Interni o il Ministro della Giustizia intervenire in questo processo? Assolutamente no, perché il potere giudiziario in Italia è assolutamente indipendente e insieme alla Presidenza della Repubblica sono delle istituzioni che i padri costituenti hanno lasciato assolutamente indipendenti proprio per sorvegliare sui vari governi della Repubblica che si succedono. La Presidenza della Repubblica non è sotto il controllo del governo, la magistratura non è sotto il controllo del governo, quindi nessun politico può intervenire sulle decisioni dei magistrati. Salvini ha dichiarato sempre che questo è un processo politico, non giudiziario ma politico. Negli anni abbiamo visto venire fuori anche il sistema che ha raccontato Luca Palamara quando è stato beccato, lui era capo di questo sistema e raccontava proprio di una parte della magistratura che fa politica con le sentenze. Matteo Salvini ne è convinto che questo è un processo politico e non giudiziario. Io vi ho spesso raccontato questa storia. Matteo Salvini rallenta lo sbarco da questa nave per tentare una redistribuzione europea e viene mandato a processo dallo stesso Parlamento. I stessi grillini che erano suoi alleati quando Salvini poi ha fatto cadere il governo hanno votato per mandarlo a processo. I suoi ex alleati hanno così cercato di far fuori politicamente Salvini, assieme alla sinistra, hanno votato per far processare Salvini. Quindi il Parlamento ha votato e ha dato la possibilità di processare Matteo Salvini. Se il Parlamento avesse detto no, non sarebbe avvenuto nessun processo. Quello che era successo con la nave di Ciotti, non so se vi ricordate, cosa analoga, simile, e il Parlamento ha votato no alla richiesta dei giudici di procedere. Mentre in questo caso, visto che il governo con Salvini era caduto e Salvini si trovava all'opposizione, chi era al governo in quel momento con la maggioranza, quindi gli ex alleati di Salvini della settimana precedente hanno votato per mandare Salvini a processo e liberarsi di un avvorsario politico non alle elezioni, ma liberarsene con una sentenza. Questa è la storia e poi vi ho sempre detto che dopo Salvini è arrivata la Lamorgese, ministro dell'interno, espressione poi di un governo di sinistra. La Lamorgese fermò una nave per undici giorni e nessun magistrato italiano si è mai interessato alla Lamorgese, ministro di sinistra, che fermava una nave per undici giorni proprio durante delle elezioni regionali, guarda caso, che coincidenza. Quindi la Lamorgese che fermò una nave per undici giorni non la calcolò minimamente nessuno. Salvini con cinque e sei giorni di rallentamento, processo, sequestro di persona. Ognuno di voi potrà fare le proprie valutazioni, la Lamorgese undici giorni fermano una nave, non se la calcola nessuno, Salvini cinque e sei giorni processato. Diciamo che c'è qualcosa di strano, vero? Salvini è convinto e lo ha dichiarato più volte che questo è un processo politico. Berlusconi dichiarava che i suoi processi erano tutti politici, lo dichiarò anche Bettino Craxi. Ognuno di voi adesso potrà farsi una sua opinione, ma insomma dopo sei anni ormai, credo che quasi sei anni, la difesa dice proprio con Giulia Bongiorno che viene processata la linea politica del governo Conte, senza che Conte e tutti gli altri ne siano stati chiamati in causa. Quindi, come vi dicevo prima, la Lamorgese undici giorni non se l'è calcolata nessuno. Governo Conte risponde solo Salvini, come se Salvini avesse fatto tutto di testa sua senza che nessuno se ne fosse accorto. Ricordiamoci che il capo del governo, che era a quel momento Conte, se si fosse accorto e non poteva non accorgersi che Salvini stava facendo un atto criminale, un sequestro plurimo di 150 persone, in quel momento Conte avrebbe dovuto bloccare il ministro, perché lui come capo del governo aveva l'autorità, il dovere di fermare Salvini se stava facendo sequestro di persona. Però non lo fece. Ma nessuno chiede conto a Giuseppe Conte del perché non fermò Salvini in quest'atto criminoso. Perché Conte non fermò Salvini? Eppure Conte in questo processo è completamente scagionato, come la Lamorgese con undici giorni non se l'è calcolata nessuno. Ognuno di voi potrà evidentemente, a parte la simpatia o l'antipatia che si possa avere per Salvini, il fastidio o la tifoseria di destra o la tifoseria di sinistra, ognuno di voi correttamente togliendo le tifoserie sa, come sappiamo tutti, sia a destra che a sinistra, sappiamo tutti che Salvini non ha fatto assolutamente niente di male. Arrivederci a tutti e grazie.